ciao a tutti carissimi amici chitarristi ho appena finito di fare un make up a questa stupenda taylor ca114 strumento veramente interessante che presentava alcuni segni sotto i primi tasti soprattutto in corrispondenza del mi e del si e del mi cantino quindi leggera rettifica e ricorronatura dei tasti e lucidatura a specchio e guardate ora sembrano le scarpette di cristallo di cenarentola ma non perdiamo altro tempo e andiamo a scoprirne la voce stay tuned e ci vediamo alla prossima ciao ciao